Raga prima di iniziare con il video vi volevo ricordare di iscrivervi al canale e non dimenticatevi di attivare la campanella Quindi ora vi lascio il video, bella raga Bella ragazzi, sono Pitch e ben ritrovati in questo nuovissimo video di Forne Raga oggi siamo in compagnia di Pano e di Tone Ciao Raga come sempre vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale, lasciare un commento e... Ok ragazzi, siamo in game e allora, allora Efra come... Voglio dire una cosa che non mi chiedo mentale è come a posto delle pallone è gonfiabile, c'è un babbo a Natale che si somiglia molto a Marco Oh la smet... oh Non la metti questa porta qua in video Sì sì, a me No dai, mi dobbiamo dire sempre su un tail eme, io non insulto mai nessuno No, 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 no Non dico perché c'è un video Poveraccio del cazzo Esatto Ma questo è un video, lo sapete? Sì Lo sapete che noi dobbiamo dire parlacce? Ah, no, non mi ha detto parlacce No, merda, cazzo, citete le case Cazzo non è una parlacce No Ciccio di merda E' solo quello che non hai te Oh, sono un collio Che non hai te C... ci rieco di me Csss magari qualcuno si ha detto sì l'ho già detto sì l'ho detto e poi ho detto ma l'ho detto nel dubbio scrivetevi lasciatemi piaccia tutte le cose quelle sappiamo perché tutte queste spade perché sono curioso non è disabile e da bocci come stavo uccidente e da bucci se vanno a dire queste cose mi stanno sparando e nico nicolas moturano no no distrutto o no non ci credo no ma non ci credo fra i ragazzi questo gioco di merda purtroppo sono da quantata a mal fine ma chi c'è scarso e quindi dobbiamo accontentarci tocca al pano adesso vedete pano ci vediamo la seconda partita che è bella ragazzi cosa siamo in game qua pano pano gamer cerchiamo di fare una buona run io non gioco io non gioco molto a fortnite non ci gioco proprio quindi ove c'è una povera per il cazzo però subito la parco di non lo so segnali i punti non per farmi vedere la terra vabbè segni andò circa lì da cui ho fatto toglierlo toglierlo ok 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 c'è già un po di gente io non sono capace vado qua che non c'è un cazzo di nessuno si morirò subito e prendi i punti di qua di dentro fammi poi può cosa sto cazzo oh vaffanculo come va raga è bravo come youtuber come va raga è bravo come youtuber va a dire alzare la webcam sono sicuro che non ti vedono ok adesso andremo a dire qualcuno con il mio nuovo oggetto non so cosa cazzo scusate un quarto di mano oh vaffanculo adesso sesso no dai deve essere il family family ma dai sii ma l'avevo detto GRANATA si è uno frame di family family ma sto gioco di merda non so ci sono i frame che vanno a putta Veccio non toccarmi il culo però perché toccarmi quello che sto giocando con la palla eh mi toccato il culo con la palla eh mi toccato il culo con la palla dai panno un figo a me fai qualcosa Veccio non so un capace guardi le porte oh si panno le chili ma dai ha laggato no bro si stasso è grossi però puoi facere io come si gioca no si si segue in rampino oh ok tua mamma è troia stai guardando tu tua mamma è troia e su che piselli grossi grossi così ma più plam 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 ma fa il culo ok raga ora tocca a tommy ciao brava ragazzi siamo nel terzo game qua non è più picci nell'altro ciccione oh la smetti invece hai rotto i coglioni hai detto devi di qualcosa dai fanno ok la smetto io faccio cagare al cazzo ancora più di pc dell'altro oh no non hai detto sentiti lì ok a teniamo qua faccio anche una persona troia come si aprono le porte con le moglie ma siete morto dai che schifo vecchio sei morto no no sono morto no vantottesimo pg poste rifarla no non puoi rifarla scusa hai trovato un cecchino di merda raga adesso non si c'è simpo sera del canale è ancora il suo proprietario vai fuori dai coglioni adesso faccio il video io questa cosa stavamo guardando ok ci vediamo alla terza partita no quarta partita ok ragazzi siamo in game allora è arrivato anche Nicolas si però chi se ne frega no vabbè c'ho ma che family friend di sto video come basta grazie stupendo le orecchie dei tuoi scultatori si e questo è rompere le palle quindi vai via adesso vai via adesso vai via urli le orecchie delle orecchie delle orecchie adesso lascia così basta divertente no? c'è la mia sister che sto studiando già sto facendo ma non so studiando fa film si per vedere stai studiando stai studiando agi cucina sta studiando vabbè allora possiamo urlare come dei che babbari non è vero non urlare perché no ma sei serio un po' poste per ciò che c'è messo il cazzo in faccia no dai non c'è vero c'è una cosa il vecchio non ho fatto nulla ma non è più famiglia di prendere sto video ma sono qua non facciamo niente ti deve essere l'accio eh eh oh non fiume la culo si ok 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 questo era un bot mi dà un'idea sto soggiorando ma è in kille oh no te lo do subito te lo do subito madonna madonna no potete scu... posiamo scuro cosa? scuro 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 potete scollegarvi dalla mia wifi no non lo so non lo posso ehm nico l'as non ciò che con gli eger con lo smussi smussi facciamo un gioco basta che c'è perché nomini raggiunti dei miei video scusa smurri non era smurri 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 ma è schifo smurri no guarda la parte ogni più mette questo video non vedrà mai tanti smurri questo video io ripeto guardando si va bene sto gioco lagga come la merda c'è c'è io che che l'agoni mi chiede ciao tosini ciao tosini loretta se sei qua ti amo che loretta loretta è quella che ci ha insultato in live no ti ha insultato non ti ha salutato c'è una frase sento gente mai sopra ah ma tu sei già arrivato ah non lo sapevo mai senti ti ha detto se si arrivo arrivo ci hanno detto si è ora è arrivata non prima ciao amici arrivo dopo no sono fratello arrivo dopo puttani svakam quando è uscito voi che spavento mai nella vita adesso siamo mai a vedere quando è uscito scrivetelo sul gruppo no lo vedo lo siamo sul gruppo oh ti spacco il culo sì dai vieni qua ma perché soprattutto che non posso venire ci vediamo dopo campionci sì io in tutto questo starei registrando un video comunque sì lo avevamo pensato stai parlando ma perché io non faccio i video da soli ancora cioè perché devo farli con voi perché perché ti senti più sicuro ma che intrattenimento che c'è Pano che bestemmia dalla mattina alla sera intrattenimento sì e poi tu sotto che metti le canzoni con quei mostri no non so se me lo dare sai che non so se me lo da no non so non credo che che melodia che me lo diano perché c'è c'è nella canzone originale è comunque dei mostri si proevita ci stanno sparando no non so che tu per le mettono le canzoni così per un pezzettino figa no non era un bot questo non so ma non sono bot non era bot questo questo se edita non è mai non è mai l'impazzo uno non sono ancora morto 2 con la mia voleva sperare è coglione hai una chance lo sai non me ne frega vabbè ma è ovvio figa lag vabbè ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto come sempre vi ricordo di lasciare un like lasciare un commento e ci vediamo in un prossimo video bella raga bella bella bella